Passiamo al comprensorio, una notizia di cronaca, il caso della donna di Radispoli deceduta a causa della presenza di gravi piaghe da decubito. L'autopsia confermerebbe la gravità di quelle ferite anche se la procura attende altri esami prima di decidere se iscrivere eventuali responsabili sul registro degli indagati. Le piaghe da decubito della donna sono effettivamente piuttosto gravi. È il primo risponso dell'esame autoptico svolto sul corpo della signora Carmela Buonanno, la 79enne, che è deceduta mentre era ricoverata presso la casa di cura San Luigi Gonzaga e che, proprio per la presenza di queste piaghe, la famiglia ha deciso di presentare una denuncia ai carabinieri di Radispoli. Denuncia che poi è finita sul tavolo del sostituto procuratore Edmondo De Gregorio, che ovviamente ha aperto un'indagine, a quanto pare per omicidio colposo. Al momento però il fascicolo è ancora contro i gnoti. Lo stesso pubblico ministero infatti attende che il medico legale gli consegni l'intera relazione dopo l'autopsia e poi valuterà se ci sono responsabilità o meno da parte della casa di riposo. Nel corso dell'esame autoptico, infatti, il medico legale ha seguito anche altri esami e saranno quelli a dover dire se il decesso della 79enne è effettivamente riconducibile alla presenza di quelle gravi piaghe da decubito oppure se è imputabile d'altro. Certo è che la signora Buonanno aveva svariate fratture, tra cui una piuttosto brutta al femore, per cui era costretta a letto già da tempo. Questa, naturalmente, è la causa della presenza delle piaghe che però, secondo i familiari della vittima, chi opera nella casa di cura avrebbe comunque dovuto tenere sotto controllo. Oltretutto, sempre stando a quanto hanno affermato gli stessi parenti ai carabinieri, nessuno li aveva mai informati della situazione piuttosto grave in cui versava la loro parente. Ancora polemica a Santa Marinella in vista del Consiglio Comunale sul bilancio. Il consigliere dell'Udc attacca l'operato dell'amministrazione Baccheca e chiede spiegazioni sui debiti fuori bilancio. Sentiamo il servizio. Piccolo problema tecnico, proseguiamo. Il PD di Santa Marinella e Santa Severa si dichiara solidale con i lavoratori del Comune di Santa Marinella che da più di un anno attraverso la loro RSU e le loro organizzazioni sindacali stanno chiedendo un incontro all'attuale amministrazione per poter affrontare le tante cose che non vanno. Condanniamo fermamente e dichiarano dal circolo l'atteggiamento del sindaco Roberto Baccheca e di tutti i responsabili del rapporto con le maestranze del Comune che in tutto questo lasso di tempo non hanno avuto la sensibilità di ascoltare le richieste e le proposte che venivano avanzate dai lavoratori. Allora ritorniamo sull'argomento precedente, appunto stavamo parlando dell'attacco in merito alla polemica sul Consiglio Comunale del bilancio. Il consigliere dell'Udc attacca l'operato dell'amministrazione Baccheca e chiede spiegazioni per i debiti fuori bilancio o il servizio. Il consigliere comunale dell'Udc Massimiliano Fronti spiega le ragioni per le quali venerdì scorso ha deciso di non ritirare la convocazione per il Consiglio Comunale e le motivazioni per le quali ha intimato alla maggioranza di non tenere la seduta pubblica, rischio un ricorso al TAR. Purtroppo si è consumato l'ultimo atto di un avvilente commedia messa in scena da questa amministrazione, dice il politico centrista. Dopo due mesi di proroga data dal Governo, per la prima volta nella storia del nostro Comune siamo arrivati a dicembre e non si è approvato il bilancio consuntivo 2011, l'assestamento e gli equilibri di bilancio 2012. È grave, afferma Fronti, ma ancora più grave come sono messe le casse comunali, con il preannunciato debito fuori bilancio che ammonta ad oltre 700.000 euro ed un'eredità che peserà sulla prossima amministrazione in maniera drammatica, frutto di una scriteriata gestione della cosa pubblica. Il Consiglio Comunale, racconta il consigliere, è saltato perché questa maggioranza non è stata capace di convocarlo secondo la legge. Come si possono dichiarare debiti fuori bilancio, si domanda Fronti, i soldi che dal 2009 il Consorzio Medio Tirreno chiede al Comune di Santa Marinella e dove il delegato del sindaco Giuseppe Galletti, che percepisce uno stipendio di 1.859 euro al mese, viene nominato subcommissario liquidatore in sena al Consorzio e firma la messa in mora e il pignoramento ai danni del Comune di Santa Marinella. Galletti dovrà spiegare ai cittadini come avrà il coraggio di approvare la delibera se è stato proprio lui a chiedere quei soldi al nostro Comune. Come spiegare, prosegue Fronti, ai cittadini di Santa Marinella il perché la Porto Romano, che dovrebbe provvedere all'ampliamento del porticciolo concesso attraverso un accordo di programma che loro hanno approvato e su cui investirà svariati milioni di euro, ha chiesto indietro i soldi dei contributi versati nelle casse comunali. Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, le sfide richieste alla formazione per fornire adeguate competenze, la necessità di sviluppare idee e innovazioni con il Fondo Sociale Europeo. Se ne è discusso ieri mattina a Montalto nel complesso monumentale San Sisto con l'assessore al lavoro e formazione della Regione Lazio, Maria Lazzezza, il sindaco Sergio Caci e l'assessore al bilancio Tito Mezzetti ed il presidente del Consiglio Comunale, Marco Lamonica. Presenti al convegno, gli insegnanti e gli alunni degli istituti scolastici alberghiero di Montalto e Vincenzo Cardarelli di Tarquinia. Le ultime statistiche, ha affermato Mezzetti, dicono che i disoccupati in Italia sono arrivati all'11% e senza lavoro sono 3 milioni di persone. I giovani poi sono soprattutto più colpiti dalla disoccupazione. Per questo occorrono nuove strategie per sfruttare a pieno le poche opportunità che il mercato ci offre. Montalto dista 40 km dal porto di Civitavecchia, che negli ultimi anni è diventato il principale porto croceristico europeo con i suoi 2 milioni di turisti l'anno. Se attraverso Mastarna riuscissimo ad attrarre verso il nostro territorio anche solo il 10% di questi visitatori, saremmo in grado di generare un circuito virtuoso con importanti ricadute occupazionali. A1 Mast, laboratori didattici dedicati agli studenti delle scuole elementari e medie. Iniziativa promossa dal responsabile dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia, professor Giovanni Insolella, sarà presentata giovedì alle 11 presso il Museo d'Arte Sacra di Tarquinia. Parteciperanno il sindaco Mauro Mazzola, l'assessore alla pubblica istruzione Sandro Celli, il vescovo Luigi Marrucci, il presidente della Fondazione Cari Civ Vincenzo Cacciaglia, il dirigente scolastico degli istituti Corrado e Mario Nardi, ed Ettore Sacconi, Angelo Maria Contadini. Il laboratorio, che occuperà parte delle sale restaurate nel 2010, grazie anche ai contributi della Fondazione Cari Civ, nasce dall'esigenza di valorizzare la pregevole collezione di arte sacra del Mast, attraverso un rapporto diretto con le scuole. Un progetto si pone in linea di continuità con l'impegno che storicamente la Chiesa ha assunto nel promuovere, conservare e diffondere il patrimonio culturale delle istituzioni museali. Ma al tempo sopra il luogo dell'Argista Fiumicino, per il momento non ci saranno interventi urgenti contro l'erosione a Fregene, alle prese con le ultime violente mareggiate. Su passo della Sentinella, invece, il sindaco Canapini ha messo sul tavolo i problemi del comprensorio e chiesto interventi urgenti a difesa della zona, suggerendo anche alcune ipotesi per potenziare l'efficacia della scogliera ed aprire un nuovo varco fra le due scogliere, che corrono al lato del piazzale del vecchio faro, per far così defluire l'acqua, causa poi dei recenti allagamenti. Ma ora diamo spazio a un piccolo break di pubblicità, a seguire la nostra consuetta pagina dello sport. Grazie.